Avviso scoperto. L'informazione senza veli con Matteo De Micheli. Io per due mesi è come se fossi morto, quindi ho vissuto quei mesi come se vivessi in uno stato di irrealità. Avevo una vita molto attiva, uscivo e andavo in giro a mare e io mi sono completamente chiuso a casa. Su piano tecnico non sono strettamente il direttore di produzione, ecco, ho partecipato diciamo un po' come dire al progetto e poi quest'estate sono stato, diciamo così, il presentatore della prima di Invisibili che è stata proposta in questo festival del giornalismo indipendente che abbiamo inventato con Playmaster Movie a Cerveteri. Non sono mai tornata come prima, il mio corpo è totalmente cambiato, la prima paralisi ad esempio riusciva a scrivere. Dopo è stato come se avessi perso tutti i movimenti. do l'impulso e a volte il mio corpo non risponde. Io ho perenni fitte al petto e sul fianco tutto il giorno. Prima facevo sport, facevo trekking tutti i weekend. Ad oggi io è un anno che non vedo più le mie amate montagne, non riesco assolutamente a correre e a fare attività di questo tipo. Ho difficoltà anche solo a portare le buste della spesa. Io prego tutti i giorni a Dio che ci aiuti a tutti a guarire da questo vaccino. Solo Dio sa quello che ci è accaduto. Veramente. È un'idea di questo duo che appunto tu citavi del regista Cassina e di Alessandro Amori. Sarà poi Cassina a svilupparlo in gran parte, tant'è vero che la regia è di Paolo Cassina e in parte poi tutta una serie di cose sono state, diciamo, poi anche montate e girate da Alessandro. Stavo ai suoi piedi cercando di tenere gli ricaldi e continuavo a vedere loro che agivano, ma nessuno mi diceva nulla. Quindi chiesi che cosa stava avvenendo, cioè qual era il problema. E quando uno degli infermieri mi disse è il cuore, ho reagito proprio d'impulso e ho ricalcato l'idea al cuore e quindi dico ma non c'è una possibilità che i vaccini ci entrino perché mio figlio è stato vaccinato. Io sento che per un principio di umanità è fondamentale che sia chi è stato male e chi sta male, ma anche le persone che non sono state male si prendano in carico quello che sta avvenendo. Quindi da una parte è fondamentale farsi vedere, non nascondersi più. Grazie a tutti. Grazie a tutti.